matematica prepariamoci alla verifica svolgimento di un'espressione con le potenze esempio calcola il risultato della seguente espressione 2 per aperta tonda 3 alla seconda meno 2 alla seconda chiusa tonda meno aperta quadra aperta tonda 4 alla seconda meno 3 alla seconda chiusa tonda per aperta tonda 2 alla seconda più 3 chiusa tonda più 2 per 3 alla terza meno 2 alla quinta per 3 chiusa quadra alla seconda svolgimento svolgo le potenze quindi 3 alla seconda è 9 meno 2 alla seconda e 4 4 alla seconda e 16 3 alla seconda e 9 2 alla seconda e 4 3 alla terza e 27 2 alla quinta e 32 svolgo le somme dentro le parentesi tonde 9 meno 4 diventa 5 16 meno 9 diventa 7 4 più 3 diventa 7 moltiplico all'interno della parentesi quadra 7 per 7 49 2 per 27 uguale a 54 32 meno 32 per 3 meno 96 svolgo la parentesi tonda 2 per 5 10 49 più 54 meno 96 tutto alla seconda svolgo la somma all'interno della parentesi quadra 10 meno aperta quadra 49 più 54 meno 96 è uguale a più 7 svolgo la potenza all'interno della parentesi quadra 10 meno 7 al quadrato 49 10 meno 49 il risultato è meno 39 Per ogni冢 Vivi efon banda 1 termine sicuramente al barco 49 è uguale a più 6 viene la posizione del quarter naprawdę 9 è uguale a più 7 per 9 a più 9 la procedzione di risultato di risultato sa con un'interno della tornata di risultato a più 4 hmm che con l'interno della puerta 49iye e ancora attentizza 2 è uguale a più 8 più 30 o più